In tre giorni sono cresciute 320 grammi. Quindi queste sono le dimensioni reali e attuali. Si possono incastrare e fare unite. In tre giorni sono le dimensioni reali. Qui sono i due espansori, quindi la gemellina Giada è un gemellino... Non credo che ci devono essere due per un totale di... Sono abbastanza presi in mezzo... Dove vai? Dove vai? Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Sì! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.